Lo scorso nascondino è stato semplice, tranquillo, divertente, ci siamo divertiti tutti insieme Ma questa volta sarà più estremo E ragazzi, come va? Io sono Fereniki Sì, sono Stef, che si giochiamo a GTA 5 E torniamo con la challenge nell'ascondino che l'avete assolutamente adorata Ce l'avete chiesta tantissimo e quindi siamo pronti per farne una nuova Ma quanto veloce ne hai detto, sei stata formidabile oggi Sono un rapper oggi Eh, wow, ma dobbiamo giocare a nascondino, non ti servirà nulla se non un rapper Non ci sa mai, magari un domani faremo una challenge che sarà una sfida di rap e io sarò prontissima Ok, va bene, comunque questa volta come luogo abbiamo scelto la zona cinematografica dove si registrano i film in questa città È decisamente più grande rispetto alla nave Ci sono molti, 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 molti più nascondigli E la cosa fantastica è che comunque è delimitata da delle mura Quindi noi non possiamo uscire da questa zona ma è davvero gigantesca Io ho dato giusto un'occhiatina correndo in giro, cioè, assurda Ci sono roulotte, tetti, cose di set cinematografico in cui ti puoi nascondere dietro C'è davvero, davvero di tutto Ci divertiamo un sacco Ok, va bene, praticamente da qui c'è l'entrata, c'è soltanto un'uscita tipo qua, qua ci sono tutti dei muri E questa è tutta la zona dove ci possiamo nascondere Vale tutto quello che sta dentro le mura E io direi che possiamo partire La scorsa volta ho iniziato io a nascondermi Aspetta, non abbiamo fatto una cosa importantissima Non ci siamo nascosti dai radar, quindi adesso facciamolo subito Ma c'è anche un'altra cosa importantissima che stiamo dimenticando Dimentichiamo un sacco di roba Che dobbiamo dire alla penitenza Perché oggi ci dimentichiamo tutto Perché sai che c'è? Perché siamo troppo felici e non vediamo l'ora di nascondermi Esatto, non vedo l'ora di nascondermi in questa mappa Stiamo pensando a nulla, guarda, ok, vai Dove è il radar? Non trovo il radar io Termo? Radar Ah, ero su grafica, vedi? Gli errori di Steph Questa volta però non metteremo in palio dei soldi Ma ci sarà una bella, bella penitenza Esattamente, infatti il vincitore dovrà scegliere una foto Che l'altro dovrà fare su Instagram E ovviamente sarà molto compromettente Quindi Molto magari ridicola, cose del genere Sì, preparatevi magari a fare i nichi con la faccia da cavallo Non lo so Non posso avere una faccia da cavallo? Non ho idea, però sto pensando a cose strane Io sto già pensando a se vinco a cosa farti fare Quindi preparatevi su Instagram a vedere una foto davvero imbarazzante Quindi possono anche proporre penitente Ok, va bene, io sono pronto, vada Ok, parro Hai 30 secondini, su, sono gentile Come 30? Solo? Eh, cara mia Allora, qui in 30 secondi non hai neanche finito di correre da una parte all'altra Non mi interessa, hai 30 secondi per arrivare i cazzotti Corro Vai, su, forza Deci provare Steph sta aspettando qui Oh, ma che bella questa scritta Sì, 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 è proprio bella La R, la M, la coroncina Sto intrattenendo i consolini qua mentre aspettiamo che ti nascondi Sì, inizia mia cara È tempo di ballare Ovviamente saranno tre round come la scorsa volta E vince chi riesce a nascondersi per più volte Allora, allora, allora È gigantesca la zona È gigantesca Prima di tutto devo esplorare Qua dentro Che magari ti stavi prendendo un caffè o cose del genere Capito? I nascondigli più banali perché della serie non si sa mai Eh, lo so Perché puoi fare il giochetto che è la cosa più banale Che è successo? Ma perché sei spaventato? Non lo so, gli ho fatto abbastanza paura Sei un po' brutto Ragazzi, non sono così brutto, per favore Forza mi ha detto Oh mio Dio, un attore così brutto non abbiamo mai visto Andiamo via dal film Basta, mi licenzio Sì, vabbè, guarda questo che figo come nascondiglio Ah, quello è sfuggito pure a me, vabbè E dove si sale poi? Non l'idea Cioè, guardate Tutti i posti dove si recita Si fanno parti di film Qua secondo me è disi sparta Quando ti buttano giù dal pozzo Esatto, esatto Ah C'è una signorina qua Dove vai? Non c'è dubito di nulla Corri Mi sono dimenticato di mettermi l'arma, no Allora, io non l'idea se da qui si possa scappare Non ho la più fallida idea Aspettami Che stavo mettendo la mazza da golf Dove sei andata? Eccoti Disgraziata No, come mi hai già ripreso? Due minuti e un quarto Due minuti e un quarto Manca ancora un sacco Polizia, mi aiuti Polizia, mi stanno per uccidere Non ti possono aiutare Sono degli attori anche loro in realtà No, è la polizia Prendetemi nel cast voi Così Perché ti vedo più vicino di quanto sei vicino del mio schermo? Perché manca poco all'ammazzata nella schiena Non ci provare? Su, non sei stanca di correre Troppo, no, non sono mai Non sei stanchissima No, non ho saltato io Sei stata una gazzella No, no, le scale, no Dai, ma come ho fatto a mancarti Stiamo facendo il giro in tondo, ti avviso? Devi arrenderti No, mai Arrenditi Correrò finché ho fiato e finché ho forza nelle gambe Non ce la puoi fare? Sì che posso Quanto manca? Quanto devo resistere? Ancora un minuto e quaranta Non mi sono incastrata No Ok, a terra Bellissimo sta zona, bellissima Tre minuti e trenta secondi Ci sei andata vicina, mi sei piaciuta Ma Steph ce l'ha fatta È il mio momento di nascondermi Sto contando Ok Mi raccomando non guardare il mio schermo No, non guardo ovviamente, non guardo Vada pure Vado Ho trovato un bel nascondiglio Secondo me non mi trovi Secondo me non mi trovi in cinque minuti Bisogna controllare tutto Anche queste roulotte Faccia pure, faccia pure Contessa la calma del mondo Se si vuole prendere anche un caffè da qualche parte Un panino lì nelle bancarelle Fai pure, tranquilla Steph è soltanto qui che inizia già a pensare A che foto imbarazzante farti fare su Instagram Non ci provare, guarda Perché la vittoria è già mia Ti ucciderò pur di non farla Ti vede in difficoltà, cara No, non ti trovo Tre minuti e venti Ne mancherò solo una quaranta Steph è ancora al sicuro Potrei anche andare in giro Che tanto non mi troveresti Mi sono appena accorto di avere un player a fianco con un elicottero Facciamo finta di nulla Speriamo che non mi ammazzi Aspetta che controllo da qua Credo sia un consolino Ah, ok, ok, perfetto Consolino, io mi sto rinascondendo Dall'attimo Cosa sta combinando? Si è affiancato a me O in questo momento Vabbè, tutto io non vedo nessuno nella mappa Quindi non mi ha neanche di aiuto Sì, però io sono nascosto E lui è affiancato a me in piedi Quindi Stava dicendo Ma che accidenti sta facendo sto qua? Fermo qui Consolino Sto facendo un po' di cacca Cos'è successo? Alla maschera da maiale E mi sono girata della inchinata a fianco a me Guardandomi Guarda il mio schermo Cioè, sei in un muro Ah Praticamente Io sto continuando Guarda anche il consolino come indizio Oh, mamma mia Così capisci ciò che sta provando Cioè, dove ti sei messo allora? Eh, sono all'estremità di una mappa Cioè, di una parte della mappa Aspetta, ma faccio il giro di tutto il muro, eh Eh, 4 minuti e 50 Ti ho visto adesso Ciao Perché vedo il consolino Vieni qua che ti uccido 3 secondi 2 secondi Vieni qua che ti uccido Un secondo Ed è andata Mi avresti trovata senza indizio? Probabilmente no Vero? Perché è stupido sto nascondiglio Ma che che pensa a queste cose? Ciao consolino Il re dei nascondini Ciao consolino Il re dei nascondini pensa proprio a questi nascondigli, cara 1-0 per Steph Si inizia Ferenichi si è nascosta di nuovo E Steph è pronta a trovarla Allora, secondo me questa volta ha giocato su qualcosa di banale Tipo le roulotte Me lo sento Che questa volta ha voluto fare la furubetta Mi vuoi così male? Mi vuoi così male? E questa bassa reputazione su di me? Sì assolutamente Occhio gli alieni nelle roulotte Anche se poi ora penso che sia cambiato Ci sono gli astronauti adesso Esatto il set Guarda in questa roulotte c'era tipo l'alieno e davanti mi aveva fatto venire un infarto Guarda Ferenichi Non ci sono più gli alieni per fortuna Guarda Quanto sei soddisfatta da una 10 del tuo nascondiglio? Abbastanza Secondo me è buono Un 7 Un 8 Quanto? Sì tipo un 8 Perché nella mia mente è buono Però tanto anche il primo che ho fatto secondo me era buono Quindi Il primo era una buona posizione ma non il punto giusto dove nascondersi secondo me Era finissimo Sei un disgraziato Non voglio arrabbiare che poi ti insegue Sì sono già arrabbiata È un astronauta che mi insegue Houston abbiamo un problema No il poliziotto che mi spara però no Un conto è un astronauta che mi vuole dare un pugnetto simpatico Il poliziotto a pistola è un altro discorso Uh ma che posto figo questo Hai visto? Mi è capitato anche a me di vederlo Sì 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 è molto figo E quindi sono nella zona giusta E lini Aia Tutto ok? Sto bene? Sto bene? Così A posto sono un po' di terra Sta succedendo di tutto Allora ho un minuto e venti Ma nel mentre è entrato un cheater nella sessione Sta dando soldi a Ferinichi Ammazzando Ferinichi Ammazzando a me Sta succedendo di tutto Per fortuna che posso interrompere Io ho cercato di schivare i soldi perché non li voglio i soldi dei cheater Praticamente mi cadevano queste valigette sulla testa Ah ah Ho cercato di schivarle andando a zig zag Un po' ne ho preso purtroppo ma non li voglio Non mi interessano i cheater Andate via No hai sbagliato Cioè di una hai sbagliato guardami Nooo Eri dall'altra Dannazione Ma poi è figo questo nascondiglio Perché se ti nascondi dietro queste cose Dai verso la strada E quindi non ti vedi diciamo se uno passa da sotto verso l'interno Mi è piaciuta Una pari Devo trovare un nascondiglio perfetto Assolutamente Adesso non c'è più nessun cheater che ci può dar fastidio Sono pronto al nascondiglio finale Perché devo vincere questa sfida Dai Fereniki sta migliorando a vista d'occhio Con un nascondiglio super epico Ma quando mai? Era molto bello il nascondiglio Io sono come i bambini Ce li è presente quando tipo si mettono la tenda in testa E si vede tutto il corpo E sono convinti di essere nascosti Sì Ecco questo è Fereniki No dai Mi auto insulto te lo dico In questo caso me li merito e me li faccio da sola Va bene No ripeto nascondino anche da bambina Io ero pessima Cioè mi trovavano sempre e non trovavo mai gli altri Proprio pessima in una maniera incredibile Sono pronto Ce l'hai fatta? Sì sono prontissimo Esco Esco Allora Avvio il radar Ok siamo pronti Il timer Il timer Non il radar Poverina Allora se non riesci a trovarmi Io vado a due E andando a due Automaticamente puoi solo pareggiare Esatto Giusto E se si pareggia si fa l'ultima per lo spareggio Ok Funziona così Al meglio di tre no? C'è una cosa imprevista Se si pareggia c'è un duello far west Non ci si risfida nascondino C'è il far west Come il far west? Sì sì quindi se finiamo due a due C'è il far west Io contro di te Ok È diverso Interessante Sarà molto bello Secondo me questo è il nascondiglio bellissimo Proprio qua Steph si porta a casa la pagnotta Si porta a casa la foto compromettente di Ferinichi E se ne potrà vantare Allora la mia foto compromettente Sì Sarà io che ti pesto Ti do un altro indizio Vendo panini Anzi aspetta In questo momento direi ciambelle E caffè È una buonissima Springs Sembrerebbe Dov'è il coso dei panini allora? Evo Cara Qui Qui dentro 15 secondi Qui c'è il coso dei panini Però non è giusto Ce ne sono tanti Ti ho visto Ti ho visto Quindi sei qui Ciao E Steph se la porta a casa No dove sei? Guardami Dietro di te Ti ammazzo Vieni Ti ammazzo Io ero qui dentro Ce lo meriti Per 5 minuti Io ero semplicemente qua così Cioè non li ho controllati questi perché mi sembrava una cosa troppo stupida Ma Steph lo sa perché Steph è il re del nascondino Lo sai che gioco proprio così E mi sono portata Lasciami Lo meriti Lo meriti Tempo avviato Forza 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 Vediamo se questa volta riesco a ritrovarti Se ti trovo è finita Giusto? Sì Ok perché siamo al terzo round prima parte Sì Ok Non so ci sto fecapendo più Lo so anche io ogni volta mi intripo un pochettino Comunque sappi che questo Steph è stato un buon nascondiglio In questi cespugli qua Non te l'ho detto perché poteva fegarmi come posto Vedi? Perché nei cespugli? Perché se tipo tu ti mettevi qua così Credo Vedi guarda Oddio È finissimo quello Sono passati 3 minuti e 15 e ancora non ti trovo Non mi piace questa cosa mia cara Non mi piace per niente Non è che sei nel stesso posto della prima volta? No Non è così banale Allora non mi sembra che sei in zona Ok Perché sinceramente non mi ricordo più come sono arrivata a questo punto Bene Quindi da dove sono passata Però no non mi sembra la zona giusta Ok Peralmeno non ti vedo in zona Quindi non lo dovrebbe essere Hai capito? Ragiono così Complimenti È perché è strano Ho girato abbastanza per trovare questo posto Ok Mi fa piacere che sei soddisfatta Esco fuori? E direi Mancano 7 secondi sì Allora ti faccio vedere dov'ero Questo nascondiglio mi è piaciuto Eh ma A parte che non ho mai controllato questa zona Per di più guarda come ti hai rimessa Incredibile È stato un nascondiglio Ne sono molto orgogliosa Penso che questi siano dei primi accenni di miglioramento Sì sì Stai diventando Non vorrei dire Un fenomeno Non un fenomeno Ma forse bravina 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 Ok fammi vedere Per i nichi bravina Eh sì 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 Vedi che è bello Perché ti nascondi bene Ti infili Guarda come è figo Sì sì Sono talmente soddisfatto Che rinuncio Alla mia terza parte Per fare il far west Perché ti voglio dare davvero Una chance di vincere questa volta Ma no Sì sì Mi sento monianimo Mi sei piaciuta Stai diventando una brava lieva Sono sicura che la prossima challenge Sarà davvero dura Scegliamo un'arma Vabbè E poi questo post è davvero fondato Anche perché sinceramente Se andiamo al Capito Al prossimo round mio Non mi trovi E vinco E i consolini non vedono il far west Eh esatto Io ci tengo a fare il far west Perché ti garantisco Che la mia idea era troppo geniale Dove volevi andare Tanto non ci torneremo Non mi volevo nascondere Dove volevi stare Volevo cambiare costume E vestirmi da una persona normale E stare lì fermo A chiacchierare con le persone Ma avrei visto il tuo nick No Oh sì Forse sì Forse Forse sarei morto Potrebbe essere geniale Oppure una schifetta Esatto A chi lo sa Che arma scegliamo Cosa preferisci dai Fucile a pompa Ti piace? Eh Dovrei averlo Sì Così facciamo il fucile a pompa Da tipo 20 metri di distanza Quindi Tipo un po' più lontana Torna un po' più indietro Ok Però Io Cioè tu hai metà vita Io quanta vita ho Pure tu hai metà vita Quindi siamo pari nella metà vita Ma mangiamo? Sì dai Ok Puntino Non facciamo i pigri 3 2 1 Vai Ma non ti è neanche arrivato il mio colpo No sì 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 Mi hai fatto male Però non abbastanza Ok quindi non si mira la testa Questa è la distanza giusta 3 Mi miro in pancia 2 1 Vai Aia ma a me sta sparando anche un poliziotto Non è giusto Anche a me stava sparando Infatti ho ucciso te Mi ho ucciso il poliziotto Cosa si mette in mezzo in un duello da far west Spiegami Cosa ne vuole capire lui del far west Esatto Comunque avevo anche io il poliziotto che mi sparava Ti lascio questa vittoria Guarda oggi sono Mi sono svegliato gentile Devo essere sincera Sono felice Una bella giornata Sei felice perché finalmente ho fatto qualche nascondiglio decente Esatto Quindi diciamo La scorsa volta è stata troppo semplice Quindi la foto imbarazzante toccherà a te Mi dispiace Mi dispiace Ci dovrò pensare bene Sì 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 Ci dovrò pensare bene ma sarà divertente Ed esce il giorno stesso Facciamo che esce Allora se il video esce tipo mercoledì Metti adesso ancora non so quando facciamo uscire Metti esce mercoledì alle 17 Un'ora dopo il video su Instagram la pubblichi Esatto Ok Esatto Perfetto Per ragazzillaci così stai giusto Lasciateci un like E se è la prima volta che avete il nostro video Potete considerare a Livia di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 Grazie a tutti.